E la biblioteca di Clusone si sta organizzando con un servizio di prestito e libri a domicilio. Esattamente, da mercoledì 3 giugno siamo molto contenti di annunciare questo nuovo servizio che abbiamo pensato di attivare in questo periodo un po' particolare, insomma, dopo due mesi di chiusura forzata ora la biblioteca è aperta con servizi orari ridotti, però abbiamo pensato di avvicinarci ancora di più agli utenti venendo direttamente a casa vostra. Quindi da mercoledì appunto si attiveranno le consegne di libri a domicilio. Ovviamente si possono richiedere soltanto i libri della biblioteca di Clusone, quindi titoli già disponibili qui e il nostro ragazzo di servizio civile, il nostro volontario, verrà dalle 2 alle 5 a consegnare i libri che vengono richiesti. Si possono effettuare le richieste tramite telefonate oppure tramite mail, come siete più comodi. Ci dovrete fornire il titolo e l'autore, se l'avete, del libro che vi interessa, indicarci il vostro nome e cognome ovviamente e l'indirizzo dove abitate e poi concorderemo appunto le modalità di ritiro. Come può essere consultato l'elenco dei libri presenti in biblioteca? Allora, è facilissimo, basta collegarsi al sito rbbg, che è appunto il catalogo della rete bibliotecaria bergamasca. Potete effettuare la ricerca e vi compare anche, una volta che voi effettuate la ricerca con titolo e autore o anche solo con il titolo, vedete le biblioteche che possiedono quel documento. Quindi se Clusone è inserita nell'elenco, voi potete prenotarlo con noi, quindi ci chiamate, oppure se avete le credenziali per accedere al catalogo potete farlo direttamente da casa, comodamente. La consegna a domicilio avviene in sicurezza? Assolutamente sì, avviene senza contatto diretto perché il nostro volontario suonerà il campanello e aspetta insomma che qualcuno risponda, quindi chiediamo che o la persona che ha richiesto i libri o un familiare comunque sia presente in casa e lo lascia al cancello. Ovviamente vi chiediamo di non lasciarli lì tanto tempo per sicurezza, però insomma non avviene contatto diretto tra operatore e la persona che richiede i libri.